Abbiamo l'impressione che per Ennio Fantastichini recitare non sia soltanto un mestiere ma risponda anche ad un'esigenza personale. È così? E se è così, ha qual'esigenza? Beh, assolutamente è così. Io dico, ha un'esigenza politica. Io credo che nel proprio lavoro le scelte siano una politica. Tutto quello che scegli di fare e il modo in cui scegli di farlo siano una scelta politica. Quindi io sono, la mia militanza avviene dentro al mio lavoro. Ci sono molte volte che io rifiuto dei copioni perché non sono d'accordo con la linea ideologica che passano. Perché sono, diciamo, revisionisti o perché raccontano delle cose che io non condivido. Credo che in questo lavoro bisogna avere anche il coraggio e che esista la necessità di dover essere attivi a raccontare la verità. Io cerco di farlo nel mio lavoro. Sto raccontando la storia di un signore che si chiama Lear e che ha tre figlie, Goner, il Reagan, il Cordelia, che gli decombino di tutti i colori, anche lui a loro. E quindi credo che raccontare questa storia sia un altro enorme privilegio. Ma è una storia antica e anche però moderna, anzi attuale, perché poi è una storia che parla ad ogni spettatore. Assolutamente sì. Una storia, io ho detto in molte interviste, un giorno qualunque, su un pianeta qualunque, in una casa qualunque. Citavamo Gian Maria Volontè, un attore completo, come qualcuno lo ha definito, quindi non soltanto un interprete, ma una persona che anche con la propria fisicità dava senso ai personaggi. Quanto manca di Volontè nel cinema italiano e quanto, secondo lei, visto che ci sono tantissimi punti in comune, ci sarebbe invece bisogno di attori pieni, completi, totali? Questo riguarda in generale la superficialità e la distanza con la quale nel tempo di oggi, nei giorni nostri, vengono fatte le cose. La mia generazione appartiene a un mondo dentro il quale la superficialità era considerata un crimine, invece noi viviamo in una società dove l'approfondimento è considerato un crimine, quindi c'è una sorta di rovesciamento del tema.